Voi non state vedendo, ma devi attraversare tutto il percorso difficile. Voglio cuore, voglio cuore tutta la vita. Ce la fai? Ce la faccio, sì. Esatto. Puoi parlare anche così? Non so, stasera anche io. Sarebbe. Che è così? Dopo la tagli questa. Ah no, aspetta, aspetta perché sono preparata. Comunque puoi parlare con questo tono, è bello anche per così intervalliamo. Io mi sono esercitata tanto con i sussurri. Allora facciamo il sussurri. Va bene. Scusa, non mi fa più sull'auto. Adesso è possibile che è sull'auto. Adesso lo tolgo anch'io perché stava vibrato. Ma com'è possibile? Si vede che mettendolo in tasca ho schiacciato qualcosa. Devo mettere l'aria e ti preoccupare. Ma è successo, secondo me. Ma tu come senti lì dalle cuffie? Tutto? Vuoi che puoi provare? Vedo che lo faccio provare. Ok. Adesso applichiamo il spray. No, che brutta. Madonna. Aspetta perché ho visto una cosa che non mi piace. Faccio un attimo pausa. Per gli occhi. Per i giocchi. Eline. No. Non c'è. Eline? Non c'è, non c'è. Sto c***o. Sto c***o. Ma io mi amori. Vasi mi licenzio. Mi licenzio. guardate io sono etero guardate io sono etero ecco a te sono etero no adesso basta un attimo riprendere mamma mia non so tu quante gaffe madonna sono tutti i tagli al mio consiglio mi ha detto madonna che brava che sai a parlare nei video come si vede sono tutti i tagli ehm come si chiama non vedi tagliate tutti i tagli no ma ma per fortuna beh come tu li fai tante foto puoi scegli quella migliore esatto mamma mia ma perchè rinquadro rincu ok no adesso basta no vai non voglio fare come strisce la notizia allora ricomincio figa detto male cosa è successo? ahah oh no non mi fia non mi finiamo più adesso vado ad applicare i ritual hey primer che scusa Allora, ricomincio. Come si è ricordata l'eye? Perché ho pensato all'eyeliner. Che cazzo c'entra? Allora, larghe le gambe perché mi da fastidio, deve essere precisa. Perché strisci le gambe e quindi fa suono. Che be' un bel suono comune. Si, 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 per quello. Che sono i peli di Sam, questi. Ciao. Ciao Sam. Così la porto sempre con me. Esatto. Pettine le sopracciglia adesso. Pettine le sopracciglia adesso. Pettine le sopracciglia. Pettine le sopracciglia. Chi? Direi che è splendente. No. 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 No, taglia. Taglia. Vado ad applicare la matita nera sugli occhi. Marta. La matita nera. Top. Top. Non so non la prendertelo. Perché? Allora. Mamma mia. Che brutta la vecchiai. Guarda. Solo adesso siamo a 9 minuti. Però ci sono dei tagli da fare. Tipo abbiamo preso 20 minuti per la sorella d'aria. Mamma mia. Quindi per quello. Anch'io faccio dei video che sono tipo 40 minuti. Poi taglio tutte le cazzate. Certo. 10 minuti. Si. Ascolta. E taglia anche il discorso della mattita nera perché ti vado ad applicare il mascara. Anche avessi idea. Allora adesso lo diciamo. Si. Tutto a random eh? Che sono? Ti ricordi? Tutto a random. Si. Bevo un po' d'acqua. 2, 2, 3, 4. Perché sto. Eh che non si è abituata. Si sorrano. Una chelè domenica. Ecco. E' precisa che lo facciamo di domenica. Dov'è? Precisa che lo facciamo di domenica. Perché? Perché non devono rupersi con me. L'altro giorno lo devono rupersi. Esatto. Aspetta che devo... Devo... Ah. Devo catarchi. Oh. Che roba. Glielo farei vedere a tua mamma questo video immagino? Morirà da ridere. Non guarda i miei video. No. Non so nella mia famiglia. Oh ma dai non ci credo. Pure. Come mai? Mmm. Non mi interessa. Oh mamma mia. Allora sì. Adesso ci vuole il rosso. Questo qua me l'aveva regalato. No. Me l'avevo presa io. Non me l'ha regalato nessuno. Non mi regala mai nessuno. Niente. Però si potrebbe fare un video con tutti i... i cosi boomer, no? Tolli sta parte del naso. Si, si. Si. Quando ti scampi. Ti ho lasciato le parti del naso. Adesso facciamo questo. Ale togli. No? No. Non lo sono. Ok. Se tu sei qua che cerchi. Si ok. Si ok. Anche io. Quello taglio. Questa la tagliamo. Ok. Questa la tagliamo. Metti perché può anche dispedersi. E dappertutto dentro. E potresti andare. Ecco. Potresti sniffartelo. E diventare grigio. Metti. Un po' di voi. Noi sono le mie capite. Ah si ma. Quanto è che stai ferma Marco? Le ho solo occhiate a posto. Eh, infatti. In questo momento in cui dopo avrei tagliato. Dio boh. Si. Ci sono un sacco di tagli anche che ho rotto. Dai! Perché parlare sempre è tutto voce Sì, è vero, mamma mia Aspettiamo qualche minuto Un minuto di silenzio Scusa Cosa? Sto scusando Scusa Sì, è sotto Vedi? È in smr Ah, non dubbio Così È italiano Sì Però Questa è un vero di lupes Lupes Adesso questi Manco che me veda Adesso vanno ad applicarli Che un cuore il viso della Marta Oh nooo Questa è da tagliare? Non lo so Questa è da tagliare comunque, mi dispiace È sempre bellissima Nooo 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 Poi me dopo lo trovo, non ti preoccupare Potevamo recuperare No, ma tranquilla che se no è una marea qua Ah, ecco perché si staccano gli adesivi Ah, è una senzola adesivo Sì, bisogna riattaccarli Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì, io lo risco dopo No, non mi provo mai Oddio Grazie Eh, però ne manca il cuore Eh, vabbè Troverà Lo troveremo Vabbè Vabbè Lo troverò io dopo a casa Togliandomi la Maglioni sulle mie panna Vabbè 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 Continuati ancora adesso L'ho sentito anche te Volente per il cuore Devi controllare che si stocchi Sì Ma non si staccano con la colla Non neanche faccio pazzie Ma poi dai Oh, troverò Tanto quando faccio l'altro Quando cadono finiscono Eccolo Nella pancia In un vortice Di disperazione e odio Sì Così, quando cadono Lo recupero Sì Sì